Ciao ragazzi e bentornati su MacMayan.com Oggi vi faccio un breve video, perché? Perché ogni volta che vengo qua con qualche amico nel mio laboratorio tutti mi fanno la stessa domanda Quando arriviamo a questo punto, gli dico a tutti Questa è la stampante 3D E' la domanda che mi fanno Eccoci, allora in questo primo esempio vi faccio vedere il tappeto elastico Vedete subito che i supporti originali della rete quelli che si trovano in alto sono tutti spaccati sono formati da una plastica molto sottile, molto fragile che col sole si sono deteriorati nel giro di neanche un anno Vedete che i bambini saltano felici, però i pezzi vanno a distruggersi Allora la prima cosa da fare è ovviamente progettare il nuovo pezzo Quindi abbiamo visto in quella schermata la costruzione del pezzo 3D Quindi la prima cosa da sapere è che non basta stampare il pezzo come vediamo in questa prima fase, in questi video accelerati ma va prima di tutto disegnato, disegnato col computer Quindi diciamo subito che la stampante 3D non è forse per tutti In queste prime immagini vediamo la stampa dei supporti nuovi Vedete che c'è un pezzo più compatto che è quello vero e proprio che andrà a formare il pezzo definitivo Mentre c'è una parte esterna che è molto irregolare e molto sottile che non è altro che un supporto per la stampa del secondo piatto Qui vediamo il prodotto finito Il prodotto finito ancora sulla stampante Vedete che la stampa è terminata ed è pronta per essere rimossa dal piatto di stampa Adesso fra un attimino vi farò vedere Vedete il distacco del pezzo Eccolo qua, lo vedete nella sua interezza, vedete la base d'appoggio che è più larga Vedete il buco centrale E in queste immagini vi faccio vedere Purtroppo ho una mano sola perché nell'altra avevo la telecamera Quindi ho fatto un po' di difficoltà Ma vi faccio vedere come rimuovo i supporti di stampa Quindi il supporto che serve solamente a permettere la stampa dei pezzi paralleli al piatto di stampa Altrimenti il filamento non potrebbe aderire nel vuoto Come penso sia logico aspettarsi Vedete che la rimozione con una mano sola è un po' difficoltosa Nella realtà con due mani ci si mette veramente poco Ovviamente questa struttura che ha nido d'ape Ma diciamo che si può impostare nella software di stampa Che è un software apposta per comandare la stampante 3D E una volta rimosso abbiamo il pezzo pronto Vedete che c'è il foro dove far passare la cinghia E il resto è il supporto Qui torniamo quindi sul trampolino Sempre con una mano, quindi con una certa difficoltà Vi faccio vedere la rimozione del vecchio pezzo Vi faccio notare anche se qua si vede male Che la cinghia, il gancio della cinghia Ci passa con una certa difficoltà Perché è molto stretto Quell'anello Quindi buttiamo via il pezzo vecchio Mettiamo nuovo Che anche secondo me è molto più carino da vedere E ci rimetto la cinghia Anche se con una mano sola facevo fatica Quindi il video che poi è accelerato Non mostra molto bene Però ho fatto un foro più largo Quindi la cinghia ci passa molto più facilmente È molto più resistente Perché è molto più grosso Ed è un materiale che dovrebbe resistere a lungo anche alle intemperie E questo in realtà è il primo esempio Passiamo al secondo Vedete questi pezzi di plastica che mi sono trovati Trovato per terra Perché i bambini mi hanno rotto questa griglia di reazione Vedete me l'hanno completamente distrutta E ho deciso di stamparla Così per fare una prova Potevo ricomprarla Ma ho deciso di fare questa prova E di fare una stampa La prima cosa è sempre quella della progettazione Quindi il disegno al computer dovete farvelo Almeno che non troviate qualcosa giusto pronto Questo invece è il software che permette la preparazione della stampa E quindi la decisione di tutta una serie di parametri Vi faccio vedere che qualche fallimento l'ho avuto Qui era la prima prova Ho sbagliato decisamente la progettazione Nella seconda ho fatto degli errori invece nella stampa Per cui mi si è spezzata una letta E vedete che ci sono tutta una serie di imperfezioni Che andavano assolutamente sistemate Dopo però ho migliorato il progetto E dopo una stampa anche piuttosto lunga Come avete potuto vedere Sono riuscito a fare un pezzo decisamente ben fatto Questo è subito dopo la fine della stampa Ci ho messo più di 20 ore Quindi sappiate che la stampante 3D ci mette una vita Però il pezzo è venuto molto bene Le alette sono tutte intere Ben distanziate Fanno passare bene l'aria Ho messo una barra di rigidimento centrale Per renderle più stabili E questo è il supporto alla stampa Che adesso vado a rimuovere Sembra che con una mano Quindi con una certa difficoltà Ma vedete che si stacca bene Ed è praticamente perfetto anche questo L'ultimo esempio è un po' più strano Vedete questi pirulini bianchi Che non saprei neanche come definire Vi chiederete cosa sono certamente Adesso però ve lo faccio capire Dal pezzo successivo del video Ossia da questa anta dell'armadio Scusate prima vi faccio vedere il pezzo originale Quindi il pezzo dell'impastatrice E le ante dell'armadio In cui sono già appese le lame Vedete? Ho fatto una replica di quel pezzo E mi permette di appendere tutte le lame Direttamente a parete Con una semplice vite È un metodo per risparmiare un sacco di spazio E da questa parte ho fatto un altro supporto Ho fatto apposta per agganciare la bilancia La bilancia dell'impastatrice Che si incastra dentro questo supporto Anche questo non è proprio perfetto Però diciamo che è venuto bene E l'incastro è ottimale Anzi con una mano Vedete che faccio anche fatica a farla scorrere Però poi ci entra perfettamente Bene Con questo vi ho fatto solo vedere alcuni esempi Di quello che si può fare con una stampante 3D Quindi spero vi sia piaciuto anche questo video Se vi è piaciuto lasciate un like Iscrivetevi al mio canale E ci vediamo alla prossima puntata Grazie per avermi seguito da MacMayan Grazie per avermi seguito da MacMayan